Questa è una breve meditazione per visualizzare e connetterti con il tuo bambino nella pancia. Puoi farla in qualunque fase della gravidanza, da sola o insieme al tuo compagno o compagna, come momento per rilassarvi e comunicare con il vostro bambino. Ora trova uno spazio tranquillo dove tu ti possa rilassare completamente e stenditi su un fianco oppure siediti magari con il supporto di qualche cuscino e forse vorrei appoggiare la schiena al muro per essere più comoda. Iniziamo facendo un respiro profondo. Inspira dal naso ed espira dalla bocca. Ora osserva il tuo corpo e lascia andare ogni tensione. Con ogni espiro rilassa un po' di più il viso, il collo, le spalle. Rilassa le braccia, le mani, l'addome. E poi rilassa il bacino, le gambe e i piedi. Rilascia ogni tensione e rilassati. Fai un altro respiro profondo. E osserva anche i pensieri che attraversano la tua mente, le preoccupazioni se ci sono. E lasciali andare con il prossimo lungo e profondo e espiro. Ora fai un altro respiro profondo. E nota se ci sono altre cose che ti distraggono. Forse qualche paura, tensione. Lascia andare tutto con il profondo e lungo. Lungo e espiro. E mentre il tuo respiro rallenta e il tuo corpo si rilassa, il tuo bambino potrebbe forse iniziare a muoversi un po' di più. E va bene. Lascia solo che il respiro fluisca naturalmente e liberamente. Per un attimo vorrei che ti soffermassi a pensare alla meraviglia che è il tuo corpo. Ti sei mai fermata a pensare che nonostante i piccoli fastidi, le scomodità che forse sta affrontando, questo corpo continua a crescere e a far crescere il tuo bambino o la tua bambina. Lui sa come nutrirlo, come supportarlo. Il tuo corpo è un luogo sicuro per far crescere il tuo bambino. Forse vorrei ringraziarlo per l'incredibile lavoro che fa per voi ogni giorno. Continua a respirare e ora è il momento di fare un salto nel tuo utero e andare a trovare il tuo bambino o la tua bambina. Respira tranquillamente e semplicemente dirigi il tuo respiro giù verso il tuo utero, rilassando ogni parte del tuo corpo. Immagina come sta il tuo bambino in questo momento, nel suo nido, come deve essere il suo spazio, la sua cameretta, la sua comoda e accogliente casa. Immagina, visualizza o senti con gli occhi chiusi di poter zoomare dentro la tua pancia, lì dove il tuo bambino sta riposando. Nota com'è rosa, caldo, è confortevole questo spazio. Alcuni lo chiamano secondo cuore, il cuore di una donna nel suo utero, il cui battito culla il bambino o la bambina fin dalle prime settimane di gravidanza. Puoi addirittura immaginare di comunicare con il tuo bambino ora. Puoi farlo con le parole, con le emozioni, con i pensieri, con immagini. Puoi anche fargli domande su come si sente, su com'è essere lì dentro questo spazio. Forse vorrei raccontargli com'è andata la tua giornata, cosa hai fatto, cosa hai pensato e magari cosa hai fatto per preparare il suo arrivo. Puoi raccontargli quanto non vediate l'ora di conoscerlo qua fuori. Forse vorrei raccontargli una storia, cantargli una canzone o semplicemente mandargli il tuo amore mentre riposate insieme, tranquillamente. con ogni respiro rinforzate la vostra connessione tu e il tuo bambino il tuo istinto di madre. Ora immagina te stessa coccolando e rassicurando il tuo bambino, facendogli sentire la tua presenza totale e piena di amore. E rimani in questo spazio per tutto il tempo che vorrai. E rimani in questo spazio il tuo bambino Ora, fai un respiro profondo. Saluta il tuo bambino, digli che la mamma è sempre con lui, ma che ora ritorna alla sua giornata, alla sua vita e inizia a stiracchiarti, a respirare consapevolmente, magari a muovere le mani, i piedi, a sbadigliare. E quando ti senti pronta, fai un sorriso e apri gli occhi. Potrai tornare in questo spazio sacro e comunicare con il tuo bambino e la tua bambina ogni volta che lo vorrai, anche ogni giorno, per qualche minuto. Per mandargli il tuo amore, i tuoi pensieri positivi e creare le basi della sua sicurezza e del suo sostegno. Grazie e alla prossima meditazione.